Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di 2S Time, io sono Stefano e oggi andiamo a estrarre dalle loro confezioni tre orologi Casio come vedete non ho davanti a me uno scatolone con dentro più orologi ma ne ho tre qua appunto davanti a me in queste scatolette ma quali orologi Casio andiamo a spacchettare? andiamo a togliere dalla loro confezione due modelli che provengono dalla stessa collezione ossia la collezione DV5006P mentre in questa c'è un Casio radio controllato della collezione Moodman se voi siete curiosi di vedere come sono questi modelli fuori dalla loro scatola ovviamente lo sono anch'io direi che questo possiamo lasciarlo per ultimo che è il modello che è uno dei top di gamma della collezione Moodman se non addirittura il top di gamma andiamo a spacchettare prima questo che è il DV5006P codice 9 che corrisponde al colore giallo per quanto riguarda le colorazioni della casa vi anticipo che questo è un modello che arriva direttamente come linea dal rifacimento dei modelli degli anni 80 e ha in particolare in più la protezione della cassa nel senso che comunque come vedete c'è questa parte in metallo che va a coprire il vetro e nonostante sia un G-Shock come voi tutti ben saprete i G-Shock hanno già una cassa che è super resistente e questo ha questo particolare in più colorazione gialla per questo modello che ha il codice DV5006P colore giallo appunto e il colore giallo nella parte specie per quanto riguarda Casio è contraddistinto dal numero 9 qui invece abbiamo il modello gemello però con codice 4 e il codice 4 per quanto riguarda Casio rappresenta il colore rosso ho voluto andare a spacchettare tutti e due i modelli che provengono dalla stessa collezione così per farvi vedere le differenze nella colorazione quindi potete sapere già nel caso in cui vorreste acquistarlo se vi potrà piacere di più il colore giallo o il colore rosso come vedete è validente ovviamente e come funzioni principali hanno come tutti i modelli DV5006 il cronometro, il multiallarme ovviamente questi sono 200 metri di profondità come resistenza all'acqua e devo dire che nonostante ormai sia fuori da tantissimi anni il modello DV5006 riesce sempre a stupirmi soprattutto nelle varie colorazioni dopo aver estratto i modelli DV5006P nella colorazione giallo e rosso andiamo a vedere questo modello che è un Moodman e questa è una versione top di gamma perché è top di gamma? perché questo è un Moodman radio controllato il suo codice come già detto in precedenza è GV9013 e ragazzi è veramente fantastico questo è un gran bel pezzo perché è un gran bel pezzo? perché come già detto è radio controllato poi ha diverse funzioni anzi direi tantissime tra cui la possibilità di verificare le fasi lunari il calcolo della direzione è un orologio solare resistente di 100 metri e poi esteticamente almeno per quanto mi riguarda i miei gusti personali mi piace tantissimo perché ha il quadrante in una black version quindi completamente nero la cassa anche quella nera con le scritte G-Shock, Mode Lite eccetera in una versione khaki e il bracciale ha questa trama camouflage che devo dire è veramente fantastica l'unica pecca, se devo trovare una pecca non nel prodotto ma nel packaging è che una scatola di questo tipo me la sarei aspettata per un modello della Edifice o per un normalissimo G-Shock per un modello di alta gamma mi sarei aspettato un packaging decisamente molto più curato però l'importante è ciò che c'è dentro nella scatola e non ciò che c'è fuori quindi questo è stato un unboxing non da uno scatolone di una fornitura ma dai box originali degli orologi se volete delle recensioni più approfondite su uno specifico modello su una particolare marca ovviamente che si trova all'interno del negozio 2S Time potete scrivermelo nei commenti e sicuramente prossimamente ci sarà un altro unboxing di una nuova fornitura e non è detto che si tratti proprio di una fornitura a caso per il momento io vi saluto ci vediamo per il prossimo video sempre sul canale 2S Time ciao